Per la prima volta dal giorno della tragedia sono stati aperti i sigilli apposti sulla porta della stazione di partenza della funivia del Mottarone a Lido di Carciano a Stresa. Così è iniziato l'incidente probatorio per ricostruire le cause della caduta della funivia. All'ingresso c'erano fiori e lumini lasciati da qualche cittadino in memoria delle vittime. Sono entrati così i periti del collegio nominato dal GIP Elena Ceriotti, consulenti delle difese delle parti civili, alcuni avvocati e l'ingegnere Enrico Perocchio, direttore di esercizio della funivia, unico indagato presente, però che aveva già spiegato di voler partecipare alle operazioni per capire come mai si sia spezzata la funia a aiutare i propri consulenti. Dopo un primo sopralluogo all'interno degli uffici della funivia a Stresa, le parti sono salite al Mottarone sia alla stazione di arrivo dove stava per giungere la cabina numero 3 precipitata e quella intermedia all'Alpino dove è ancora bloccata la numero 4. Poi in pochi hanno proseguito l'ispezione sulla scena della tragedia nonostante la pioggia battente per esaminare la cabina, la fune e la testa fusa. Le relazioni dovranno essere depositate entro il 16 dicembre e il 30 agosto inizierà invece la perizia sulla scatola nera che potrebbe conservare preziose informazioni sugli ultimi istanti di vita dell'impianto.